Buonasera direttore Galigani, Luigi Abate, siamo in diretta con Polifemo. Direttore, volevamo un po' che ci facesse chiarezza sulla vicenda dello striscione per l'acciaieria d'Italia. Come? Con chi parlo? Le ho detto, sono il dottor Luigi Abate, buonasera, in diretta per Polifemo. Luigi, abbiamo scelto la politica del silenzio. No, dobbiamo fare chiarezza. Dovete dire, c'è un accordo con l'acciaieria d'Italia? C'è una sponsorizzazione? Luigi, è uno spazio pubblicitario. E' benissimo, ma le sembra opportuno fare un accordo con l'acciaieria d'Italia, con quello che sta succedendo? Luigi, per cortesia, non mi aspettavo questa telefonata. Eh no, io sono un tarantino che ama Taranto e non è benissimo, benissimo, è proprio perché l'ama. Non si possono fare accordi con un'azienda che inquina. Devo riuscire a parlare per cortesia. Non si possono fare accordi con un'azienda che inquina, direttore. Per un fatto che è scelto per una politica... No, direttore, ci deve dire i soldi che sono stati dati alla società attraverso l'accordo. Se c'è un accordo commerciale... No, no, sente molto bene, fa finta di non sentire. Ci dica l'accordo commerciale quanto avete ricevuto come società in termini di soldi? Non vuole rispondere Galigani. Vedete, fa finta di non sentire. Siccome evidentemente... Ma può darsi pure che il collegamento sia difettoso. Riproviamo tra un secondo. Quindi la società, come vedete, non ha voluto rendere noti i termini dell'accordo commerciale. Ha detto però, ha confermato, che c'è una sponsorizzazione. Lo ha detto lui stesso. C'è uno spazio pubblicitario che è stato acquistato. Quindi il Tar Alto Calcio ha deciso di fare un accordo con Acciaierie d'Italia per acquistare, per mettere a disposizione di Acciaierie d'Italia, questo spazio. In un momento assolutamente inopportuno, visto quello che sta succedendo al Siderurgi. Con di Tar Alto, che possiamo chiamarlo, Ital Sider, Ilva, Barcelormittal, Acciaierie d'Italia, come volete. Vedete, è stato confermato che c'è un accordo. Pronto? Direttore, ora sente meglio? C'era un fruscio, mi aveva detto. Chiedo una cortesia, c'è una scelta societaria, prego, non è questa l'ora. No, 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 deve spiegare l'accordo, lei è molto vicino alla Morselli, ci spieghi perché. Chiedo scusa, devo parlare perché altrimenti... Prego, prego direttore, prego. Non aspettavo questa telefonata, non ero stato avvisato. Se vuole qualche spiegazione sentiamoci domani. No, no, ma dobbiamo parlare pubblicamente davanti ai cittadini, ai tifosi, dovete spiegare. Ha chiuso il telefono. Allora, invito i cittadini, i tifosi del Taranto, se dovesse permanere questa sponsorizzazione di Acciaierie d'Italia, ha, nel momento in cui si riaprirà lo stadio dopo l'emergenza Covid, a disertare lo stadio. Tifosi del Taranto, se continuerà ad esserci l'accordo commerciale tra il Taranto Calcio e Darcelor Mittal, vi invito a non andare allo stadio. è una forma civile e democratica. Dissertate lo stadio, perché non vogliamo le immagini, gli striscioni, il logo di Acciaierie d'Italia che abbia a che fare con il Taranto Calcio. Il diretto al direttore non conveniva. Vanni? Beh no, non ci sarà da aggiungere altro. Lui ha detto domani che vuole essere richiamato e penso che tu lo possa fare anche con una diretta doc. Non lo ha detto in privato, ha fatto capire in privato, non vuole dirette, non se l'aspettava. E io mica era fesso che l'avvisavo prima il direttore. E mica io ero fesso che lo avvisavo prima. Vi ho preso, come si dice a Tara, da a securduna. Perché questo meritate. Va bene? Perché in una città in cui si licenzia un ragazzo, Riccardo Cristello, perché ha solamente condiviso un posto sulla fiction, sulla fiction Svegliati amore mio. Questa azienda, Acciaierie d'Italia, ex Arcelor Mittal, non reintegra il lavoratore. Tappa la bocca al lavoratore e vuole fare anche lo sponsor al Taranto Calcio. Lontano quell'acciaieria, lontano Arcelor Mittal, lontano Acciaierie d'Italia dal Taranto Calcio. Tifosi rosso-blu, quando aprirà lo stadio, vi invito, è un mio pensiero, è un mio invito, disertate lo stadio. No allo stadio, no al tifo, fin quando ci saranno Acciaierie d'Italia e la Morselli a fare da sponsor al Taranto Calcio.